Grazie a queste ragazze, ragazze in gambissima, che hanno coniugato la possibilità di creare dei bellissimi capi di abbigliamento che sono anche utili e talvolta anche necessari, indispensabili nel caso in cui ci siano delle donne che subiscono violenza e possono in questo modo chiedere aiuto in maniera automatica. Grazie all'iniziativa e soprattutto grazie da parte di noi donne all'Oni. La violenza però non deve essere nascosta, la violenza deve essere portata alla luce perché poi la violenza di genere generalmente quello che emerge è solo la cima dell'iceberg enorme che sta sotto il mare e perché i modi in cui l'uomo usa violenza alle donne ce ne sono tantissimi, di ogni genere non solo quello fisico ma magari quello più evidente, cioè quello psicologico, quello economico, quello nel mondo del lavoro. Sì, infatti la violenza c'è sia nelle mure domestiche che per strada ma anche nel mondo del lavoro purtroppo. Questo progetto secondo me è straordinario perché finalmente fa parlare insieme scuole, mondo della ricerca e mondo del lavoro per unirsi in sinergia e combattere insieme un fenomeno che va veramente condannato ed è purtroppo molto grave. Quindi grazie alla scuola, a FBK e a tutti quelli che collaborano per l'iniziativa di questo progetto. Grazie.